Il treco regionale delle ore 18 e 34, proveniente da Milano dei Confrenti, in diretto a Viglia, in arrivo a Milano 3, ferma in tutte le stazioni, eccetto, posti dell'elettro stravaziano. La sezione, allontanarsi dalla fine a casa. Il treco regionale delle ore 18 e 34, proveniente da Milano dei Confrenti, in fronte a Viglia, in fronte a Viglia, in fronte a Viglia, in fronte a Viglia, in fronte a Viglia. Il treco regionale delle ore 18 e 34, proveniente da Milano dei Confrenti, in fronte a Viglia, in fronte a Viglia, in fronte a Viglia.